My name is Glenn Bruno and I'm 60 years old and the love of my life Robin passed away five years ago I became very depressed but three years ago I dedicated myself to follow my dreams of being a performer a dancer and that's why I do it I dance for Robin. Glenn Bruno, 60 anni, ha deciso di danzare sopra il suo dolore per rendere un tributo alla defunta moglie Robin. È il protagonista del videoclip ufficiale della canzone Heart Ways A Ton, il nuovo singolo di Alex Metric, DJ e producer britannico. I videoclip delle canzoni di musica elettronica danza sono spesso un'occasione mancata, sono molto leggeri, con ragazze sexy, poco vestite o cose di questo genere. Nel video di questo singolo, Heart Ways A Ton, abbiamo voluto inserire un pensiero più profondo, qualcosa che desse un senso alla canzone stessa, siamo stati fortunati nel trovare lui. Alex Metric, che si è imposto nella scena musicale ispirandosi al synth pop degli anni 80, ha scritto questo nuovo singolo con Stefan Storm, che è anche l'interprete. Abbiamo voluto scrivere una canzone con un respiro più universale, che andasse al di là della classica storia d'amore tra un uomo e una donna, tipica delle canzoni dance. In un solo mese il video di Heart Ways A Ton ha già superato le 120.000 visualizzazioni. Grazie per la visione!